Sarà un ferragosto inconsueto ma denso ugualmente di attrativa a quello che ci apprestiamo a trascorrere anche senza il tradizionale spettacolo pirotecnico. Mancheranno i fuochi di mezzo agosto per le prescrizioni anti-covid, ma il ferragosto della riviera del Corallo rappresenta sempre un appuntamento tra i più suggestivi in Sardegna, così il sindaco Mario Conoci sull'imminente appuntamento di metà agosto. Le norme, ma soprattutto la prudenza, aggiunge l'assessore al turismo Marco Di Gangi, ci suggeriscono di rinviare la prossima estate e la notte dei fuochi. Ma anche senza il tradizionale evento, Alghero offre un programma di appuntamenti culturali di spettacolo e di intrattenimento di qualità, messo a punto nonostante le difficoltà e le ristrettezze dell'emergenza. Una serie di appuntamenti sono stati infatti organizzati dall'amministrazione comunale della Fondazione Alghero in collaborazione con le numerose associazioni del territorio nel rispetto delle attuali prescrizioni antivirus. Ad ospitare i vari eventi, le aree archeologiche Palmavera, Angolo e Rui, il piazzale del Quartè, il giardino del Museo del Corallo, il parco Tarragona, il parco di Villa Eder e l'area Lido San Giovanni. «Programmiamo intanto oltre l'estate», spiega il delegato al turismo della Giunta Conoci, con una stagione che vogliamo allungare fino ad ottobre inoltrato, con una serie di appuntamenti che da San Miguel arriveranno al Cap Danì, passando per il rally mondiale di ottobre, per contribuire a sostenere il comparto turistico con l'obiettivo di recuperare il più possibile i mesi persi durante l'emergenza sanitaria. Grazie. 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 Grazie.